Paglio di San Lorenzo, ossia Paglio da Pastaciuto, come è chiamata popolarmente questa manifestazione, che da anni il Comune di Pozzolengo porta avanti, porta avanti all'insegna della buona tavola, della reglia e dell'amicizia. Davide Bezzoli è il sindaco di Pozzolengo, l'amministrazione la vuole questa manifestazione perché raduna la gente, porta gente da di fuori e soprattutto si diverte. Ma il Comune e l'amministrazione la vuole perché la gente la vuole? Perché non soltanto la gente di Pozzolengo la vuole, ma perché i numerosi ospiti che abbiamo avuto nelle edizioni precedenti ci hanno dimostrato di volerla, quindi ormai sono diventati abitudinari e per noi è importante continuare con questa tradizione. Dicevi giustamente Paglio della Pasta Asciutta, ma il contesto delle manifestazioni non è soltanto il Paglio della Pasta Asciutta. Iniziamo già prima con il Music Village, già a partire da questo weekend, quindi con la fine di luglio, con l'ultimo weekend di luglio, il Music Village, ovvero festa della birra organizzato dai ragazzi di Pozzolengo, che è la prima manifestazione, il primo entry del contesto delle manifestazioni di agosto. Poi si passa alla sfilata di moda, il Cantapaglio, quindi prima ancora che sfidano il piatto, le contrade si sfidano sul palco, quindi il miglior cantante, verrà premiato il miglior cantante di ogni contrada. Il degustibus, il giorno domenica 8, con questo percorso gustativo per promuovere quelle che sono le nostre specialità, quest'anno ancora più qualitativo degli anni precedenti, perché si svilupperà su due differenti percorsi, quindi garantendo una maggiore fruibilità, minori tempi di attese e addirittura, andando nel nostro intento, più ancora verso i gusti, verso le richieste di quelli che vorranno essere i nostri graditi ospiti. Quest'anno ancora di più con il coinvolgimento anche di alcuni ristoratori del centro storico del paese. Ed infine il Clou, la manifestazione Clou, il giorno 10, San Lorenzo, il Paglio, come hai detto bene.